Ciao, di tutte le modalità disponibili per Grease Pencil ce ne manca una che è lo Sculpt Mode. Lo Sculpt Mode quindi è una modalità proprio di editing dei nostri disegni Grease Pencil, quindi prima diciamo serve avere un disegno e vediamo a cosa può servire. Realizzo un attimo un paio di foglie con le tecniche che abbiamo già visto. Gli cambio il colore. Ho cambiato il colore e i segni con lo strumento Tint. Adesso su un altro livello crea un po' di riempimenti quindi ovviamente avrò bisogno magari del materiale Solid Fill. Per ora appunto ho il grigio però vado a selezionare un altro colore e faccio dei riempimenti come di foglie secche. Separo i riempimenti in tanti piccoli pezzettini capiremo perché dopo. Non sono stato precisissimo con i bordi ma non è una cosa obbligatoria ovviamente è solo per motivi di velocità. Ora utilizzo di nuovo lo strumento Tint e invece che su Stroke Fill vado solo sui fill e grazie al fatto che ho disegnato diversi pezzi separati vedete è un po' più facile introdurre delle variazioni di colore. Se avessi fatto tutto un unico pezzo avrei una sfumatura insomma e quindi sarebbe un po' più complicato. L'ho diviso in vari pezzi prima di tutto anche per questo motivo per poter dare un po' di variazioni di colore. Andiamo anche su qualcosa di proprio più rosso. Adesso ho queste tre foglie. Vado in Object Mode sappiamo che sono piatte appunto. Voglio inquadrarle per esempio da altre angolazioni posso volerle curvare. In questo caso in Edit Mode potrebbe essere più complicato. Allora in Edit Mode un attimo le seleziono e le sposto un pochettino per poterle avere più facilmente diciamo in mezzo e andiamo a vedere quali sono gli strumenti che abbiamo a disposizione in Sculpt Mode. Intanto possiamo notare che vediamo i segni un po' come in Edit Mode e abbiamo dei tool completamente diversi. Approfittiamo di queste foglie per vedere un po' cosa fanno. allora il tool Smooth come vedete ammorbidisce tutte le linee e le rende più lisce diciamo. Quindi questo è il primo tool. Quest'altro cambia lo spessore delle linee e in questo caso vedete le sta ingrossando però qui se scegliessi meno finisce per invece rimpicciolirle. Quindi per esempio questo può essere un buon modo per andare velocemente a cambiare lo spessore di linee alle quali avevamo già dato uno spessore e perché no per esempio ai bordi della foglia farli un po' più grossi. Quindi vedete pennellando posso cambiare lo spessore. Posso essere dolce con la pressione e regolarmi come al solito c'è strength. Come il primo cambiava lo spessore quest'altro appunto cambia la strength e quindi se lo passo il segno diventa più o meno opaco. Siccome adesso è al massimo dell'opacità se facessi meno ecco che vedete che diventa più trasparente. In questo caso non mi serve però sappiate che c'è anche questa possibilità. Quest'altro invece Randomize va a spostare leggermente tutti i punti del segno e li rende completamente irregolari. Quindi potete notare questo effetto che in qualche caso potrebbe essere interessante in certe zone dipende ovviamente dal tipo di disegno però potrebbe avere senso. Dopodiché abbiamo questo il grab che forse è uno di quelli più utili insieme al successivo. Il grab mi permette di deformare il disegno. Quindi come vedete adesso annullo quello che ho fatto però mi permette di spostare gli elementi del disegno. Attenzione anche che il piano quassù ha il suo ruolo perché se io mi metto di profilo e provo a trascinare col grab vedete rimangono sul piano orizzontale. Devo andare a cambiare questo piano se io lo mettessi su side adesso quando faccio grab si muove solo su questo piano. Infatti se lo guardassi da davanti e faccio grab non succede quasi niente. Di solito quindi noi vogliamo cambiarlo in view ed è questo per esempio quello che ci può permettere di dare maggior rotondità alle foglie ed è anche il motivo per il quale ho realizzato il riempimento con tante piccole zone in modo tale che ognuna di esse quando è riempita possa essere un riempimento di una piccola zona perché se io la vado a curvare ovviamente ho bisogno di avere i vertici nei posti diciamo della della nuova curvatura. Quindi vedete grazie a questo posso andare a cambiare la forma delle foglie. Notate che come al solito le linee dietro sono davanti perché abbiamo ancora la modalità degli stroke di tipo 2d layers. Se la metto sotto 3d location ecco che invece adesso gli stroke stanno diciamo nella loro posizione nello spazio 3d. Dovrò quindi anche regolare la loro posizione per riuscire a vedere meglio le venature ma preferisco intanto finire di spostare e di cambiare un po' la forma delle foglie. Questo è grab e quest'altro è molto simile e push come al solito il pennello si può ingrandire diminuire. Vedete è un pochino più delicato quindi permette di fare degli spostamenti più piccoli per esempio ma soprattutto mi metto da davanti la differenza fondamentale diciamo è che se io utilizzo grab e per esempio prendo questa linea e la trascino vedete che si è trascinata solo la parte che ho preso all'inizio quindi se questo è il cerchio sul quale agisce viene trascinato solo quello. Mentre invece se utilizzo push e trascino lungo la forma vedete che è un po' come se col dito trascinassi tutta la forma quindi mentre questo prende solo la parte con la quale ho cominciato questo sposta tutto quello che sta in mezzo allo spostamento diciamo. Dopodiché abbiamo quest'altro twist che magari è un po' meno utile però se premo vedete gira le cose in senso orario quindi per esempio in questo caso potrebbe essere utile per se mi metto di profilo e lo faccio qui vedete che con il control o cambiando da più a meno posso cambiare la direzione di rotazione quindi vedete qui gira in questa direzione con il control gira nell'altra. Ecco vedete questi difetti visivi sono proprio quelli che sono il motivo per il quale ho diviso il riempimento in tante piccole zone in maniera che non capiti ecco diciamo quindi ecco questo twist potrebbe permettermi facilmente di dare più un effetto a foglia a queste. Pinch porta tutti i punti verso il centro quindi si strizzano e se premo il control per cambiare invece si allargano e clone ha un funzionamento diverso che vedremo più avanti. Adesso quello che manca qui diciamo per ripristinare le foglie è andare in edit mode sul layer solo delle linee magari nascondo momentaneamente quello dei fil seleziono tutte le linee torno a premere fil e adesso faccio un g y esposto un pochino le linee appena appena fuori dalla foglia per esempio qui è qui è un po' troppo devo selezionare solo quelle interno quindi tiro via la selezione del segno esterno ecco e solo quelle interne g y le porto un po' più in fuori vedete per riuscire a vederle che si facciano notare anche in questa modalità di visualizzazione nello spazio 3d quindi ecco un primo uso degli strumenti di sculpt che permettono quindi di modificare un disegno già fatto e quindi per esempio in questo caso di dar spessore o comunque un aspetto più realistico a queste foglie che prima erano completamente piatte. Grazie e alla prossima!